Allora, chi abbiamo in programma adesso? Allora, abbiamo un gruppo che si chiama Motti Special con Cold Days e Hot Night. Sapete chi sono i Motti Special? Adesso qui avrete una sorpresa. Ecco, perché? Perché i Motti Special al primo momento possono non dirvi molto, anche se per la verità in mezzo a Europa sono già in classifica, ma il loro produttore, il loro animatore, è un cantante molto popolare che vedrete fra poco, perché è Michael Kretu, quello di Samurai. Poi chi c'è? Allora, Calde Notti sarebbe Giorni Freddi, no? Cold Days e Hot Night. Giorni Freddi, però poi non importa perché con Santal si sistema tutto. Sì, tutto caldo. Va bene, amici, con Santal, con Susanna, Motti Special e tutta panna, via! Sì, tutto caldo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.